Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ci troviamo come vedete alle mie spalle a Moncalieri ma cosa ci facciamo qui mi sto allenando per la gara con il Grenz che avverrà accogliate il 21 luglio dove appunto sarà una gara cittadina quindi molto tortuosa e diciamo non con l'asfalto perfetto quindi siamo venuti ad allenarci qui perché è una pista stra tortuosa con ripartenze da fermo e soprattutto perché ci sarà anche fede perla non ci può essere allenamento migliore che avere una iena alle calcagna come fede anche perché ai tempi parlo di 10 anni fa è riuscito anche a farmi rompere un polso proprio per colpa sua perché dopo averlo passato ripetutamente giustamente si è rotto le palle mi ha stretto e mi ha fatto sbattere la faccia per terra e mi ha fatto rompere lo scafoide questa volta non succederà perché non farò lo stronzo e non voglio farmi male due settimane prima della gara di Imola però di sicuro ci sarà da lottare perché i ragazzi qui al sit vanno forte e diciamo che con i tempi sto facendo un pelo fatica prima mia esperienza in una pista così stretta prima mia esperienza sulla moto che tra poco vi faccio vedere quindi non sarà per niente facile arrivare davanti ma noi ci proviamo come al solito adesso ci mettiamo la tuta saliamo in sella e facciamo i primi giri a capire un po' come funziona adesso ci mettiamo in sella e facciamo i primi giri a capire un po' come funziona a capire un po' come funziona a capire un po' come funziona Grazie per la visione 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti